Per entrare sul pranzo abbiamo scelto di fare una panna cotta di squacquerone in crema di fave. È una cosa un po' diversa dal solito. La tradizione è rivisitata. Questa è la scelta di tanti ristoratori aretini che per questa Santa Pasqua accoglieranno tanti commensali. In Toscana, secondo le previsioni di Confcommercio, saranno 180.000 le persone che la trascorreranno al ristorante. L'offerta è indubbiamente variegata, ma sulla tavola pasquale non possono mancare salame, panina e uovo sodo. Per i primi e i secondi spazio alle sapienti mani degli chef, sempre con un occhio alla tradizione. Sui primi, oltre alla tagliatella classica ragù, abbiamo aggiunto uno dei nostri ravioli che sta riscoltando un gran successo, che è un raviolo ricotto e arancio condito con ragù di chianina in bianco. Di carne siamo andati veramente invece sul classico, perché facciamo il tradizionale agnello, sta in forno tutta la notte per una bassissima temperatura e il risultato è un agnello cotto, ma che rimane ancora molto molto morbido. E poi la classicissima tagliata alla retina, diciamo così. Ecco, insomma, vediamo poi dal punto di vista invece dei dolci, i corolli, insomma le piccole colombe, insomma qui veramente si rispetta la tradizione in pieno. Questa torta di mele, che è una torta di mele che poi viene mele cannella, quindi sempre una fornita, tutta roba fatta da noi. Questo è il nostro menù. Insomma, mi sembra che avete assolutamente rispettato in pieno la tradizione. Poi, per Pasquetta che si fa? Si usano le ricette del riciclo, un po' con, non ovviamente nei ristoranti, ma magari in casa. Potremmo dare un'idea su come ad esempio riciclare la colomba che è avanzata? Sì, l'idea è quella ovviamente di fare una bella colomba farcita, magari con una crema all'arancio, e poi insomma questo può essere uno spunto per fare questa cosa. oppure le classiche tagliatelle risaltate in padella o gratinate in forno con un po' di besciamella, che questo già potrebbe essere un piatto che rinfresca un po' il vecchio, però dando una cosa nuova. Adesso si va verso la bella stagione, tante cerimonie, insomma in questo senso che cosa chiede il mercato? Quali sono le novità che voi poi anche proponete? Bisogna essere competitivi. Un po' sul prezzo, secondo me molto sulla qualità. Grazie.